Tuo figlio ha deciso di andare all'università, ti ha chiesto di mantenerlo negli studi superiori dopo il diploma? Vediamo. Ricercate l'istruzione di vino. Alcuni fratelli si stanno impegnando per conseguire un'istruzione superiore, pensando di questo darà loro una certa sicurezza economica. Come sapete i sistemi scolastici variano da paese a paese. Ad esempio negli Stati Uniti la scuola pubblica prevede 12 anni di istruzione di base, quindi gli studenti possono decidere di andare all'università o al college per 4 anni o più per laurearsi o specializzarsi dopo la laurea e intraprendere la carriera di medico, avvocato o ingegnere. Con l'espressione istruzione superiore ci riferiamo a questo tipo di istruzione universitaria. Capito cari avvocati che difendono la Bush Tower? Naturalmente l'istruzione è un elemento importante nella vita di un cristiano e le diamo grande valore. L'istruzione ci prepara per assolvere le nostre responsabilità sia materiali che spirituali. Satana però, che è maestro nell'inganno, ha reso di perseguire un'istruzione superiore un pericolo per i cristiani. Molti giovani, sempre citazioni alla membro di Segugio poi, molti giovani che si stavano facendo un'istruzione superiore sono stati sviati dalla fede e hanno finito per commettere immoralità. Tradotto, molti giovani che dall'entroterra dei paesi americani, magari, sono andati a studiare a Boston, eccetera, eccetera, nelle varie città più grandi americane, hanno smesso di frequentare le sale. Forse perché hanno aperto gli occhi? Combattere per la fede è particolarmente difficile quando non si è più esposti all'influenza positiva della famiglia, leggici, indottrinamento, e della congregazione, e si è immersi nell'ambiente universitario. Oltre a esporre a cattive compagnie, spesso l'istruzione superiore erode la fede in Giove a Dio e nella Bibbia. Ma com'è debole questa fede? Com'è debole? Se basta la lezione di un professore ateo per farla vacillare? Prima di decidere cosa fare, ognuno dovrebbe valutare attentamente gli svantaggi e ogni possibile vantaggio. I cristiani dovrebbero ricordare che lo scopo di qualunque istruzione supplementare dovrebbe essere quello di lodare a Geova e servirlo nel modo più pieno ed efficace possibile, provvedendo al tempo stesso alle proprie necessità materiali. E veniamo ai nominati. che devono essere esemplari nel seguire gli avvertimenti dati dalla classe dello schiavo fedele e dal suo corpo direttivo in relazione all'istruzione. Un anziano, un servitore di ministero, continuerebbe a essere qualificato per servire se sua moglie, i suoi figli o lui stesso perseguissero un'istruzione superiore? Stato a corte, molto dipende dalle circostanze e dal modo in cui è visto. Qualora esorgesse una situazione del genere, il corpo degli anziani dovrebbe prendere in esame le seguenti domande e scritture. Il fratello dimostra di mettere al primo posto gli interessi del regno? Insegna la sua famiglia a mettere al primo posto gli interessi del regno? Rispetto a ciò che è stato pubblicato dallo schiavo fedele circa i pericoli dell'istruzione superiore, il suo luogo di parlare e di agire rivela che è una persona spirituale? Come è considerato la congregazione? So, cioè, oh, l'università sta facendo tuo figlio, mica sta andando a combattere nei marines. Qual è il motivo per cui lui e la sua famiglia perseguono l'istruzione superiore? Eh, sai, perché avete bisogno di avvocati e di medici. Non so se moro e se vado al dentista. Se non vado al dentista, allora si vede che non hanno bisogno di incentivare anche gli studi odontogliatici. Il fatto che perseguono l'istruzione superiore interferisce con la regolare frequenza alle adunanze, con una significativa partecipazione al servizio di campo o con altre attività teocratiche. Insomma, dopo aver considerato attentamente in preghiera la questione, il corpo degli anziani potrebbe giungere senza difficoltà. Alla conclusione, il fratello ha un buon atteggiamento in relazione alle informazioni pubblicate dall'organizzazione in merito all'istruzione superiore e che gli gode ancora del rispetto della congregazione. Potrebbero anche osservare che lui e la sua famiglia continuano a mettere l'interesse del regno al primo posto e che gli studi non interferiscono con le adunanze del ministero. In questi casi, gli anziani potrebbero decidere che gli sia ancora qualificato per servire. Ma bisogna verificare, eh? Quindi, pensaci bene prima di scrivere tuo figlio all'università. D'altra parte, se il fratello promuove l'istruzione superiore per i vantaggi materiali o status che ne possono conseguire, le sue qualifiche all'interno vengono messe in discussione. Addio privilegi. Il corpo degli anziani potrebbe stabilire a chi non è più qualificato per servire. Nella maggior parte dei casi, questa decisione dovrebbe essere presa in occasione della visita del sovegliante di circoscrizione. Se il fratello non condivide la decisione presa, potrebbe essere invitato a spiegare per iscritto le sue ragioni. E via dicendo. Alla luce di quanto è esposto sopra, ogni anziano dovrebbe riportare la seguente notazione accanto al sottotitolo, situazioni che possono far sorgere dubbi sull'idealità di un nominato. Qui stiamo parlando di un manuale che da moltissimi testimoni di Geova non sanno, della cui esistenza ignorano, che è il libro di testo Pascepe e Greggie. Pascepe e Greggie di Dio. Detto anche il manuale KS. Quanti di voi che mi state ascoltando del testimone di Geova conoscete l'esistenza di questo manuale? Ben pochi, penso. Ben pochi, penso.